Gaetano Panariello esordisce con il primo scritto a tradimento, una summa, uno scrigno e da cui si cacciano storie antiche, storie nuove, ma che hanno un'unica e comune matrice, Torre del Greco. Dopo tanti anni e veramente con il cuore sono riuscito a mettere insieme i racconti che avevo nella mente ma in parte erano anche pronti sulla carta. Perché fare questi racconti? Per lasciare un'impronta anche a chi verrà, ai nostri giovani. In realtà lo scrivere è una cosa bellissima ma il ricordare è ancora più bello e a questi giorni vorrei dire come è evoluta la città, il nostro paese, il nostro bellissimo territorio e che cosa succediva tra gli anni 50 e 70 intorno a noi. Era un mondo completamente diverso, che uno non immagina. Siamo completamente immersi in una realtà diversa da quella che si viveva qualche anno fa e forse abbiamo anche bisogno di guardarci dietro ogni tanto. Questo libro ci consente di farlo anche a chi non c'era o a chi c'era di ricordare qualcosa come eravamo. Docente di matematica e fisica, già dirigente scolastico, come si coniuga la passione di una vita, quella per i numeri, per le formule matematiche, per la scienza, alla esigenza della scrittura? Mi sento semplicemente un cantore, una persona che, ripeto, nel tempo e nello spazio vuole ricordare che cosa possa succedere e che cosa sia avvenuto precedentemente alla nostra presenza su questo territorio. Domani la presentazione alla Galleria, al Centro d'Arte Mediterranea di Torre del Greco. Quando nasce la passione per la scrittura? Quando diventa, quando quei pensieri e quei racconti diventano un testo scritto e soprattutto quali sono i prossimi lavori in cantiere? Allora, la passione per la scrittura c'è stata sempre. Forse era una scrittura più, ecco, legata al mio mondo matematico e fisico. Però questo è venuto fuori attraverso un periodo particolare, come sappiamo tutti, il periodo del virus che ci ha attaccati. È stato un periodo di prigionia. È stato un momento particolare in cui ognuno di noi si è sentito chiuso in casa e, diciamo, è punito in qualche modo, anche se era per la nostra salute, per il nostro continuare a vivere. Ed è stato allora che ho sentito in maniera molto forte, dall'interno, qualcosa che mi diceva, prima che succede qualcosa, prima che avviene, che possa avvenire l'imponderabile, tu ti ricordi di tante cose, mettile per iscritto, mettile per iscritto, o recupera quello che avevi scritto. Ed è così che è nato, quasi come una forza interna. È un libro che possono leggere tutti. È un libro che può, di sera, magari, prima di addormentarsi, leggere e farci sognare.